Detto questo andiamo avanti con il nostro telegiornale, infatti a Terra Nuova Bracciolini appuntamento alla Biblioteca dei Ragazzi con letture alla scoperta della mitologia. Il 24 giugno 1, 8 e 15 luglio dalle ore 17 alle 18 e 30 in Biblioteca dei Ragazzi a Terra Nuova Bracciolini ci sarà un'iniziativa dal nome alla scoperta della mitologia. Intanto di cosa si tratta? Come ogni anno l'Associazione Ideazione organizza in collaborazione con la Biblioteca dei Fornaci un ciclo di letture animate seguite da laboratori creativi. Quest'anno appunto il tema è la mitologia e quindi leggeremo tutte le storie sulla mitologia greca. Dopo ogni lettura verrà realizzata una pagina di un libro pop-up che poi alla fine del ciclo i bambini si porteranno a casa. L'iniziativa è rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni.